Sembra ancora in alto mare la nomina del nuovo manager dell'ASL Sulmona Mezzano L'Aquila e il nome su cui sembrava ormai essere stata individuata la quadra da giorni, quello del direttore dell'ASM Rinaldo Tordera, divide il mondo del sindacato e della politica con la giunta regionale che ha rinviato ancora una volta la nomina dell'erede di Giancarlo Silveri. Oltre alla dicotomia manager o medico alla guida dell'ASL, a creare più di un mal di pancia sempre essere proprio la figura dell'ex direttore generale della Carispac. Un nome inaccettabile secondo il consigliere regionale di Forza Italia Emilio Jampieri che reclama maggior coinvolgimento dei territori. Ancor più duri i sindacati. Una nomina come quella di Rinaldo Tordera, nuovo manager dell'ASL Aquilana, da quello che si vocifera, aprirebbe il campo a dei ricorsi e anche noi come sindacato ci associamo a questa cosa, afferma il coordinatore provinciale sanità della CISL Gianfranco Giorgi. In relazione al fatto che l'ex direttore della Carispac, dato come possibile candidato alla direzione generale, figura negli elenchi di idonei di regioni come Lombardia e Toscana, ma non in quello dell'Abruzzo. Le nomine vanno fatte seguendo procedure corrette per evitare la paralisi amministrativa, aggiunge Giorgi. Un contenzioso sarebbe devastante. Sulla sesta linea, l'UGL, che attraverso il segretario provinciale Giuliana Vespa, annuncia il possibile coinvolgimento della magistratura, sembrerebbe, afferma la Vespa, sempre più vicina alla nomina manager dell'Asra Vezzano sul Monal Aquila, dell'ex direttore Carispac, ex consulente della Edimo Fallita, attuale amministratore unico ASM e amministratore delegato di sviluppo Italia Abruzzo Rinaldo Tordera. È noto a tutti che Tordera non rientra nell'elenco regionale degli idonei, dove, come scritto nella delibera di bando, bisogna attingere. Ma di tutto ciò, conclude la Vespa, non si tiene conto ed il duo cialente d'Alfonso non si preoccupa né dei ricorsi che scaturirebbero da questa nomina né dagli atti che anche noi, come UGL, porteremo in procura. Insomma, una situazione in divenire che potrebbe risolversi anche nelle prossime ore con un finale a sorpresa di chi Tordera. Candidato Papa esce cardinale dal conclave e con una nomina che alla fine potrebbe essere al femminile. In Lizza, Patrizia Masciovecchio, direttrice del Dipartimento di Medicina alle gare del San Salvatore e Sabrina Cicogna, direttrice dell'Unità di Cardiologia del Nosocomio Aquilano.